Numeri ottimi per le prenotazioni degli anziani over 80 e dal 1 marzo al via i vaccini per il personale scolastico, ai quali seguiranno gli operatori di polizia, le forze armate, la protezione civile, le magistrature, le prefetture e le questure. Questo è il quadro che racconta le prossime tappe della campagna di vaccinazione, come spiegato dall'assessore alla sanità regionale Filippo Saltamartini. Inizieremo il 20 febbraio la vaccinazione delle persone che hanno più di 80 anni, le prenotazioni online per telefono stanno andando molto bene, quindi abbiamo ormai più della metà del target prenotato e in 21 giorni noi completeremo, se tutti si prenoteranno, la vaccinazione con Pfizer dei 133.000 persone che hanno più di 80 anni. Poi inizieremo nei prossimi giorni la prenotazione per chi non può deambulare o non ha la possibilità di raggiungere i punti di vaccinazione e per questa ragione metteremo a disposizione dei cittadini un punto su una piattaforma delle poste italiane e un numero di telefono. Contestualmente avvieremo la vaccinazione del personale della scuola, inizieremo il 1 marzo, e il personale delle forze di polizia, armate, protezione civile, magistrature, prefetture e questure, il 2 con i vaccini AstraZeneca. Finora questo processo di vaccinazione ha riguardato il 90% delle persone che sono in RSA. Abbiamo messo in programma il completamento della vaccinazione in questa settimana, completeremo sempre in questa settimana tutto il personale della sanità. L'assessore Saltamartini ha poi affermato che se la consegna delle dosi verrà rispettata e dunque non subirà modifiche o ritardi, in tre settimane si concluderà il ciclo di vaccinazione riservato agli over 80. Il percorso proseguirà poi con la somministrazione del siero alle persone fragili, ovvero tutti quei soggetti affetti da patologie mediche croniche e dunque più vulnerabili ai rischi del Covid. L'assessore ha poi parlato dell'accordo in via di definizione con i medici di famiglia, per il loro coinvolgimento diretto nella campagna di vaccinazione. Contiamo a chiudere l'accordo in modo tale che anche i medici di famiglia possano aiutarci nella vaccinazione domiciliare delle persone che non possono accedere ai punti di vaccinazione e anche per quanto riguarda un aiuto dei medici di famiglia potrà essere utile negli stessi punti di vaccinazione. Teniamo conto che tutta la struttura dei distretti, i medici USCA e anche le ADI, l'assistenza domiciliare integrata, contribuirà a completare il quadro delle vaccinazioni che riguardano queste persone che se dovessero essere colpite da Covid-19 rischierebbero molto. Quindi invito tutti i figli, i nipoti, gli amici ad accompagnare nei punti di vaccinazione queste persone. È un gesto di grande solidarietà, un bellissimo regalo accompagnare queste persone che rischiano appunto per la somministrazione di questo vaccino che ha finora dimostrato un'altissima efficienza contro il Covid-19. Grazie mille.